Con il numero numero 4 viene la gama, il percorso di Piscali, a piedi e a squadra! Con il numero numero 4 viene la gama, il percorso di difesa, Federico! Con il numero numero 4, Francesco! Con il numero numero 5 viene la gama, il percorso di difesa, Cesare! Con il numero numero 5 viene la gama, il percorso di difesa, Cesare! Con il numero numero 5 viene la gama, il percorso di difesa, Cesare! Con il numero numero 5 viene la gama, il percorso di difesa, Cesare! Con il numero numero 5 viene la gama, il percorso di difesa, Cesare! Con il numero numero 5 viene la gama, il percorso di difesa, Cesare! Matteo 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 Matte Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.